Ciao a tutti, questo video per comunicare il nome del vincitore o della vincitrice del sesto corso gratuito estratto. Ricordo che i corsi gratuiti estratti saranno 10, però affinché la vincita diventi effettiva è necessario che la persona scriva sotto al video che ha visto, diciamo, di essere vincitrice e quindi in quel modo lì diventerà effettiva la vincita. Questo per dar modo alle persone che vincono di essere anche persone che seguono i video, insomma. L'estrazione, ricordo, viene fatta semplicemente associando da 1 a 30.000 dei numeri casuali per cui avviene in questo modo, insomma. E quindi a questo punto il nome del sesto vincitore, diciamo così, è Vanessa Loy che però diventerà effettivamente una vincitrice. Se nei commenti a questo video scriverà, ho visto il video e quindi sono, diciamo, confermo di essere la vincitrice. Questo è l'unico modo. Il tempo, diciamo, necessario per vedere il video e quindi dare confermo sono due settimane. Al termine di due settimane, se la persona non si manifesterà, diciamo, decadrà la vincita e farò un'altra estrazione. Questo però ricordo che poi al raggiungimento dei 40.000 iscritti ci saranno altre 10 estrazioni, questa volta di sessioni di riequilibrio emozionale, di coaching emozionale gratuite con me. Quindi continuate a iscrivervi al canale perché i 40.000 iscritti, diciamo, ci saranno nuove estrazioni. Quindi anche che eventualmente non avesse vinto in questa prima tranche, ha altre possibilità, insomma. Bene, per questo video è tutto. Al prossimo. Ciao! Ciao!